Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui, oggi andiamo a parlare della partita, la fantastica partita di ieri che il Milan ha giocato contro il Verona, abbiamo giocato a Bente Godi ma prima di parlare del Milan mi invito sempre a iscrivervi al canale, a show like e attivare la campanellina per la stagione dei miei contenuti, un Milan veramente pazzesco, un Milan che è sceso in campo con la concentrazione di portarsi a casa questa vittoria, è un Milan diverso, un Milan che vede Leao e Tonali veramente in uno stato di forma pazzesco Leao che regala due assist pazzeschi a Tonali, Tonali che in aria è un guerriero poi la fantastica perla di Florenzi che ha quelle doti, ha quel tiro pazzesco assist e azioni pazzesche quanto riguarda il Milan, un Milan che mi è piaciuto tanto soprattutto sul piano tecnico e sul piano mentale che ha usato la testa, ha portato a casa questa grande vittoria ora sono 80 punti, manca solo, Atalanta e Sassuolo, l'Inter mancano soprattutto Cagliari e Sampdoria 80 punti, 78 l'Inter un Milan che scende in campo, veramente viene messo in campo e scende in campo soprattutto in un modo diverso rispetto alle altre partite, un Milan che voleva assolutamente questa vittoria si è visto tutto dal gioco che hanno proposto 1-2 soprattutto pazzeschi sia alla fascia destra che alla fascia sinistra un Ternandez che ha fatto finalmente un buon lavoro soprattutto in difesa ma non mi è piaciuto tutto il gol subito al Milan gol subito dove la fascia è stata tutta dimenticata e quindi Faraoni poteva metterla dentro e che dire ragazzi, se il Milan veramente continua così e scende in campo contro Atalanta e contro Sassuolo come una squadra che vuole assolutamente lo scudetto queste due partite saranno veramente due partite determinanti e poi e oltre a quello il Milan se li porta tutti a casa si porta veramente lo scudetto dopo tanti anni un Milan che continua continua con il gruppo a lottare fino in fondo quest'anno spero che è la volta giusta per portare a casa tutto questo scudetto e dare emozioni a noi tifosi rossoneri fatemi sapere tra i suoi commenti cosa ne pensate di questo Milan un Milan che sta dando veramente tante emozioni un Milan che è veramente maturo ed è un gruppo solido con insieme a Ebrahimov e Ciajuru che sono due giocatori che tengono su tutto l'ospediatore unito Tonali prestazione da veramente da top player un giocatore che sta dando veramente l'anima e che crede soprattutto insieme a Leao in questo scudetto ci vediamo alla prossima ragazzi vi auguro una buona giornata bella ciao 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 ciao